allo ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui con riccardo dose e non siamo in italia siamo lontanissimo siamo in nuova zelanda a oakland per un video tutto speciale quindi gustatevi questo video bella giuro non potete rendervi conto di quanto pesa sto zaggio da fuori di testa sono tutti arrivati dopo le prime sei ore siamo arrivati a dove non vedete la gioia sono già siamo quasi a un terzo io ho già fatto 18 ore di viaggio a treno e bus siamo più o meno a singapore ragazzi sono le sei del mattino siamo finalmente arrivati all'albergo fra un'ora ci aspettano nella hall per partire per fare una attività pazzesca ho deciso di inaugurare questa stanza ad albergo facendo un piccolo tributo a favij e adesso come ogni influencer che si rispetti vi faccio fare un room tour qua c'è il bagno prega niente nessuno poi qua abbiamo la cucina tutto molto figo l'abbiamo la zona divano relax quelle robe lì che piacciono ai giovani e qua giù abbiamo la stanza è tutto molto figo c'è anche una bella vista perché non ho passato neanche un minuto e mezzo dentro questa stanza là c'è il mare ma non si vede un tubo mentre quella la invece la spark arena dove ci saranno i green day questo sabato i green day sono in questo albergo ma non siamo riusciti a beccarli ci ho provato pensate se vi facevo su un instagram stories con i green day non fregava niente nessuno come tutte le altre mie instagram stories com'è? bello riposato? si riposato 10 minuti a questo punto siamo andati in un posto di cui assolutamente non posso parlarvi ma se rimarrete sintonizzati sul canale di riccardo dose a settembre lo scoprirete ok ragazzi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare purtroppo fino a settembre non posso parlarvi e dirvi che cos'è ma nonostante sia da domenica pomeriggio che non dormiamo ed è martedì sera abbiamo deciso comunque di approfittare di fare due passi qui intorno all'albergo così vi faccio vedere un piccolissimo 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 minuscolo estratto di questa la Auckland by night andiamo però facciamo una cosa dato che siamo dall'altra parte del mondo li mando tutti al contrario ciao 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 ragazzi stiamo partendo per tornare a casa abbiamo preso l'Uber più sgangherato che ci fosse probabilmente non è neanche un Uber ma è un tipo che ha rubato una macchina di Uber se non ci vedete tornare sappiate che i nostri organi sono finiti in India molto probabilmente un'altra parte del mondo ragazzi su questo aeromobile spaziale torneremo indietro nel tempo torneremo 10 ore indietro nel tempo che è una delorean gigante grande giome ragazzi abbiamo fatto le prime 17 ore e 50 di volo ne rimangono solamente 7 stanno tutti sul cazzo c'ho le piaghe da decubito sul culo io non c'ho più lo su sacro l'ho dato a uno qui dei comandanti di sacro non c'ho più niente su sto aereo questo era il video della nostra esperienza qui in Nuova Zelanda di cui ovviamente non possiamo dirvi assolutamente niente iscrivetevi al canale anche a quello di Riccardo che trovate ovviamente in descrizione e nelle schede e arriviamo a 500 mi piace per una challenge assieme ma è addirittura 500 mi piace e ce la facciamo vai ciao